a cosa è la tua ora la nata per la scuola la vita è la tua fine se mi vedono non sarà un problema la fortezza è imponente vediamo come sarà accolto con il permesso reale non 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 Siamo in giù! Il permesso non mi darà accesso al forte. Devo trovare un'altra via. Un'altra via. Un'altra via. Un'altra via. Un'altra via. Devo essere molto cauto qui. Un'altra via. 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 Grazie a tutti.